Qui abbiamo un giacone della linea Maxmo, ma prima di parlare di questo giacone voglio parlare della mia tabella taglie espressa in centimetri. Questo giacone fa 70, quindi ha una circonferenza di 140 cm e fate riferimento alla mia tabella taglie che vedete nella scheda del prodotto. Cercherò di essere veloce ma è un giacone che ha una caratteristica tecnica veramente interessante. Allora, abbiamo una doppia chiusura, quindi chiusura con cerniera e chiusura con automatici. Cosa importante, come vedete, la cerniera in questo caso parte un pochettino più in alto. Questo perché logicamente quando ci sediamo è una cosa molto pratica e comoda, non ci va a tirare il fianco. Abbiamo un cappuccio, in questo caso staccabile, quindi un cappuccio con automatico e cerniera che è facilmente staccabile. Poi sul tavolo vi faccio vedere. 6 tasche esterne, le tasche sono 6, 2 sul petto, qui abbiamo sempre la chiusura con automatico, 2 tasche, anche in questo caso, sempre chiusura con automatico e vediamo se ci riesco, perfetto. Un'altra tasca, in questo caso con questa cerniera interno saldato, quindi molto pratica e comoda. Per quello che riguarda la lunghezza, considerate che questo mio manichino è alto 1,85 m, quindi chiude perfettamente quello che riguarda la lunghezza. Per quello che riguarda la manica abbiamo sempre un doppio polsino, quindi un polsino interno a maglia e sopra il tessuto. Questo è un'imbottitura interno, ha una morbidezza, una leggerezza fantastica. Come vi dicevo, il cappuccio ha degli automatici e una piccola cerniera, comunque molto pratica e comoda eventualmente da staccare. La parte interna di questo giacone, dal tessuto e dall'imbottitura, è meravigliosa, troviamo questa foto da particolare con il logo dell'azienda e anche il ricamo, in questo caso, sempre sulla mia parte sinistra. Una tasca, in questo caso con cerniera, quindi veramente fantastica. Allora, come vi dicevo prima, questa ha una circonferenza di 1,40 m, quindi 1,40 m di tessuto, raramente si può fare una cosa simile per due motivi. Il primo perché non ho la morbidezza in negozio, il secondo, guardate quanto vi parlo di leggerezza e morbidezza. Maxfo, taglio forti, uomo riving, siamo sempre una taglia avanti.